Sono Giulio Manierelia, il direttore delle Gallerie dell'Accademia di Venezia. Sono a casa. Volevo presentarvi oggi un dipinto che ho scelto tra i moltissimi capolavori del museo. Si tratta del miracolo della vera croce al ponte di Rialto di Vittore Carpaccio. Il ciclo viene commissionato dalla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista. Si tratta di una confraternita laicale molto potente in città. La scelta iconografica. La scuola non si comporta come le altre piccole e grande di Venezia che in genere sceglievano di decorare la propria cappella con le storie del santo protettore della confraternita, ma loro fanno una scelta completamente diversa, proprio una strategia comunicativa molto diversa. La scuola possedeva dal 300 una reliquia che si riteneva appartenesse a un frammento della vera croce di Cristo e si riteneva anche che fosse miracolosa. E appunto è ai miracoli, a rappresentazione dei miracoli, che è dedicato il ciclo. Proprio la città di Venezia diventa il vero e proprio soggetto. Questo è particolarmente vero per il miracolo al ponte di Rialto, dove la scena, diciamo, miracolistica è dedicata a uno spazio molto limitato. Il vero soggetto è proprio la città. Il ponte di Rialto che vediamo nella sua edizione quattrocentesca di legno che precede quella attuale. Il motivo per il quale ho scelto questo dipinto è perché rappresenta Venezia. E tra l'altro una Venezia molto diversa da quella che stiamo vivendo in questi giorni di coronavirus. È una Venezia affollata, una Venezia molto viva, in cui c'è una vita frenetica. Ecco, è una specie di pensiero, quello mio, verso il futuro, verso il recupero di questa vita. Un gesto, diciamo, di fiducia verso il futuro di questa città e del museo che la rappresenta al meglio, le gallerie dell'Accademia di Venezia.